Siamo a Roma per la settima edizione dei premi Omer, un'iniziativa molto bella che premia giornalisti e non che hanno contribuito con i loro articoli, con i loro video a far conoscere di più le malattie rare, a farle capire e a far accettare queste persone nella comunità, come giusto che sia. Noi ne parliamo con Francesco Macchia per farci raccontare l'iniziativa di quest'anno, che è del tutto particolare a causa del Covid e i dieci anni di Omer che si compiono proprio in questi giorni. Francesco, innanzitutto volevo chiederti un commento sul premio Omer. Quest'anno con il Covid è stata un'edizione particolare, però molto toccante e anche con delle caratteristiche interessanti che ti vorrei chiedere di raccontarci. Sì, è stata una scelta coraggiosa, abbiamo voluto andare avanti per forza e per amore, abbiamo voluto dimostrare a noi stessi e a questo settore che ha sofferto moltissimo nel periodo del lockdown che si sta ripartendo, che si sta ricominciando a guardare al futuro. E' un'edizione diversa, è vero ci sono meno persone in sala ma l'emozione è tantissima comunque e abbiamo per la prima volta uno streaming dell'evento in diretta e quindi stiamo avendo una partecipazione online davvero altissima che ci commuove come ogni anno e ci emoziona e ci dà la motivazione per andare avanti ancora. Quest'anno ci sono due premiati, due categorie di premiati, ci sono i sette vincitori del premio Omer ma c'è anche Omer di per sé che festeggia i dieci anni. Cosa vuol dire aver compiuto dieci anni? Se ci racconti un po' i progressi che avete fatti, i passi avanti, raccontaci qualcosa sulla vostra avventura. Festeggiare i dieci anni è un'emozione enorme, un traguardo importantissimo e mai avremmo pensato con Ilaria quando abbiamo cominciato di arrivare fino a questo punto. Lo festeggiamo in un momento molto particolare ma questo non significa che guardiamo meno al futuro. Se devo essere onesto vedo delle differenze rispetto a dieci anni fa, ovvero dieci anni fa si parlava pochissimo di malattie rare, poche persone estremamente competenti parlavano di malattie rare e se ne conosceva pochissimo. Oggi se ne parla molto di più, spesso con poca qualità, quindi forse la sfida che abbiamo davanti per i prossimi dieci anni è quella di lavorare sempre di più sulla qualità e sempre di più sull'attenzione ai pazienti affinché vengano realmente messi al centro.